Lo sport può essere uno dei più efficaci veicoli di inclusione sociale. Ne è convinta Piattaforma Solidale, associazione da anni presente sul territorio provinciale a difesa dei diritti delle persone con disabilità e nel monitoraggio delle loro esigenze. Un lavoro di Piattaforma Solidale che da mesi ha trovato convergenza con la Federazione Pentathlon e con la società sportiva ASD Futura, con le quali è stato attivato un innovativo percorso di inclusione fra sport e scuola. Un progetto che venerdì 28 gennaio si svilupperà a 360 gradi nel seminario dal titolo Il Faro della Vita. Seminario che si trarrà nella sala del Consiglio Provinciale a Pesaro in una giornata che dalle 9 e 15 indagherà e svilupperà strumenti e attività per uno sport inclusivo. Il progetto ha uno sfondo sociale prima di tutto e parte dal presupposto di includere e includere i ragazzi con disabilità all'interno dello sport per poi arrivare in un futuro a dargli anche una possibilità e una visione dello sport parolimpico. Ci siamo ispirati a già delle proposte che sono state fatte nel nostro territorio. Il Faro della Vita vuol dare un segno di inizio anche per il pentathlon moderno. Ovviamente io e Massimo Domenicucci ci siamo incontrati tramite una mia carissima amica Sara Domenicucci se state per iniziare questo percorso con piattaforma solidale proprio perché abbiamo visto che le persone diversamente abili hanno bisogno anche di un aiuto a livello di impiantistica perché spesso e volentieri non tutti gli sport hanno questo tipo di caratteristica per cui il seminario porterà un po' di luce verso una direzione più aperta nei confronti della disabilità. Partiremo dalla storia della chicca Mencoboni con cui inizierà e aprirà il seminario. Il Faro della Vita, il seminario avrà tantissime altre visioni da una persona particolare che verrà direttamente portata lì al seminario e racconterà la sua storia, addirittura ha fatto un film Il Faro della Vita a Rodolfo Giorgetti, poi avremo il CT della Nazionale di pentathlon moderno. Il Faro della Vita è un progetto che viene fuori da un centro territoriale che è il quinto centro territoriale nelle Marche, in Italia ci sono cinque centri territoriali tra cui uno nelle Marche e sono finanziati dalla Federazione Pentathlon questi progetti ed è una cosa molto importante perché ci dà la possibilità di proporlo anche gratuitamente alle famiglie. Successivamente al seminario è previsto un ciclo di incontri dedicati nelle scuole che hanno aderito al progetto. Il 28 inizia letteralmente il progetto con questo seminario che poi continuerà con l'entrata del centro territoriale quindi dei nostri tecnici insieme ai nostri psicologi e anche ai nostri educatori, quindi tre figure che entreranno all'interno delle scuole in determinate classi, classi che ci verranno indicate, ci sono state indicate dai vari dirigenti scolastici in cui sono presenti delle situazioni un po' più complesse, un po' più complicate. L'utilizzo dello sport sarà quello di un mezzo letteralmente per poter includere il pentathlon con la sua varietà delle sue cinque discipline ci rende la vita molto facile in questo senso. Lo scopo dello sport in questo caso è quello di andare a individuare quelle abilità che sono rimaste magari nascolte per tanto tempo e nel mondo della disabilità questo ha un valore fondamentale. Il disabile che si sente meglio psicologicamente affronta meglio anche la propria vita e anche il fisico migliora e come ho spesso detto questo significa anche un minore intervento a livello del servizio sanitario. Il disabile che sta meglio assume anche meno farmaci, accede anche meno ai servizi sanitari. Ma questo cosa significa? Significa un vantaggio enorme per tutta la società perché è una società che risparmia dal punto di vista economico ma acquista dei valori enormi. persone che da entità passive diventano soggetti attivi, da persone che assorbono reddito diventano persone che producono reddito e partecipano alla vita di tutti.